ciao ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora ho preparato questi questi due tipi di farina vedete farina di maggiorca del molino parri e poi ho messo una farina zero del 00 scusate del molino cipolla con 14 grammi di proteine la farina di maggiorca invece ne ha 12 bene farò questo impasto a mano quindi ho mescolato le due farine ci metto l'acqua una buona parte di acqua l'ho messa quasi tutta avete visto e adesso peso il licoli quindi metto sulla bilancia e metto gli 80 grammi di licoli ok quindi questo è il mio licoli che ho rinfrescato 4 5 ore fa più di quattro ore sicuramente ok adesso ci metto ancora un po d'acqua vediamo se serve ne metterò un pochino di più ma dovrebbe bastare quella che ho messo allora mescolo così con il cucchiaio mettiamo ancora acqua dopo aver girato un pochino aggiungo anche il sale ecco qua giro ancora e posso fare anche con le mani volendo con il pugno adesso continuo ancora un po con il cucchiaio mettiamo il sale mettiamo il resto dell'acqua bene io credo che questa quantità di acqua è giusta così ci regoliamo sempre un pochino con l'acqua perché a seconda delle farine se non avete la farina di maggiorca e ne mettete un'altra quindi magari potrebbe cambiare il dosaggio giro ancora impasto ancora con il cucchiaio avete visto così pulisco poi un pochino la ciotola e adesso faccio riposare l'impasto per un'oretta allora passato il tempo ecco qua vedete come si presenta l'impasto adesso con il cucchiaio faccio questa sorta di pieghe piego vedete verso il centro e faccio riposare ancora faccio passare ancora un'altra ora dopo un'altra ora vedete l'impasto si presenta già bene bello setoso e faccio queste pieghe così lo prendo e lo alzo copro di nuovo e lo lascio ancora un'altra ora quindi sono passate due ore da quando ho fatto l'impasto dopodiché lo metto in frigo e lo appoggio e tutta la notte 12 ore 12 ore all'incirca la mattina dopo tiro fuori la ciotola e lo tengo tengo l'impasto un'ora anche un'ora e mezza lo lascio acclimatare quindi lo tengo a temperatura ambiente poi vado sul piano di lavoro ribalto l'impasto ho messo la semola sotto anche abbondante se vogliamo e qui senza toccarlo molto lo piego scusate l'inquadratura non è delle migliori lo piego così lo arrotondo e lo rimetto in ciotola copro e lo lascio a temperatura ambiente un'ora dopo un'ora ripeto ancora quelle pieghe che ho fatto prima mettiamo sempre un po di semola è morbidissimo vedete ben idratato ok piego ancora così senza toccarlo molto a rotondo e lo rimetto in ciotola lasciandolo ancora un'altra ora bene eccolo qua adesso l'impasto è pronto e procedo per formare le ciabattine scusatemi per l'inquadratura di prima che era fatto un po male vabbè pazienza non mi sono accorta non avevo inquadrato bene allora ribalto l'impasto sotto sempre con la semola adesso non lo tocco molto lo allungo soltanto un pochino così metto un po di semola ho messo i guanti questa volta e divido l'impasto ci farò quattro ciabattine quindi così divido a metà e ancora a metà il pezzo senza toccare le ciabattine senza spingerle niente ho preparato un suolo diciamo un contenitore e ci ho messo una tovaglietta ci metto molta semola dove andrò poi ad adagiare le ciabattine quindi le metto così semplicemente ecco e le divido con il telo così ecco perché bisogna mettere tanta semola altrimenti si attaccano eh perché sono veramente morbide senza girarle poi le giro quando le andrò ad infornare le sistemo per benino ecco qua allora sul canale sicuramente ci sono video con altre ciabatte magari fatte un po con un altro procedimento adesso non ricordo bene qui ho usato ho usato diciamo un altro procedimento mi sono basata sulle ciabatte di fulvio marino però le ho fatte ho cambiato un pochino perché le ho fatte con il lievito madre non con il lievito di birra quindi metto ancora semola appena che le tocco guardate ma pochissimo le copro e le faccio lievitare io credo che basterà un'ora 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 e mezza intanto che le ciabatte lievitano mi accendo il forno lo mando a temperatura 250 gradi per poi abbassarlo dopo 10 minuti con il fornato 240 andrà bene quindi passato il tempo vedete si sono gonfiate un pochino e le faccio le giro sul palmo della mano sul braccio come volete e le giro le metto sotto sopra metto il sotto che stava ecco così mi faccio vedere meglio ok ecco qua ne metto tre l'altra la cuocio dopo perché non c'entrano di più queste poi si confieranno quindi vedete le metto così senza non le spingo niente non ci faccio niente né tagli né niente a forno ben caldo vado ad infornare con una spruzzata di vapore il mio forno alla funzione automatica ho messo soltanto una spruzzata altrimenti con uno spruzzino spruzzate all'inizio e basta eccole qua come vedete si stanno gonfiando ed eccole pronte dopo all'incirca 30 minuti naturalmente regolatevi con i vostri forni so ok so Grazie a tutti